Caffè Letterale è un'associazione culturale che ha lo scopo di divulgare la psicologia e di portarla fuori dagli studi medici. In questo tempo le nostre serate sono ovviamente sospese e abbiamo deciso di non procedere con la modalità online, anche se siamo state molto tentate. Questo perché le nostre serate sono caratterizzate da un ampio coinvolgimento del pubblico, che può portare anche la propria personale esperienza. Abbiamo deciso però di lanciare un concorso il 16 maggio, un concorso che ha a che fare con il quaderno che noi utilizziamo e che ci accompagna da sempre nel nostro percorso. Un quaderno su cui sono raccolte riflessioni, richieste e suggestioni. Quello che noi chiediamo è di inviarci i vostri contributi, che possono essere immagini, dipinti, scritti, fotografie, e tutto quello che la vostra fantasia può far emergere per raccontarci come avete passato questo periodo di emergenza Covid. Il nostro tema quest'anno era la speranza, la resilienza, il sostegno e l'armonia. Ecco, ma i parole furono più consone per un periodo storico. Quello che noi vi chiediamo è di contribuire a mantenere viva la nostra realtà, che da dieci anni lavora a vostro orsizio, lavora gratuitamente a vostro orsizio. Quello che vogliamo fare è che il quaderno possa rivivere, che le nostre storie possano continuare. Non sapremo in che modo continueremo a settembre, sicuramente sapremo che il concorso avrà una premiazione e che chiederemo il coinvolgimento dei commercianti di Busto perché i vostri lavori vengano esporsi nelle vetrine, così che passeggiando per il centro e passeggiando per Busto ci possa essere un racconto condiviso e collettivo di quello che è stata questa emergenza. Quindi vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook e a inviarci i vostri contributi.